Buonasera, alla fine un martedì di dicembre verso l'ora di pranzo esplose in un colpo solo tutta la carica del suo tormento. I bambini avrebbero ricordato per il resto della loro vita l'augusta solennità con la quale il padre si sedette a capotavola, tremante di febbre, consunto dalla veglia prolungata e dal fermento della sua immaginazione e rivelò la sua scoperta. La terra è rotonda come un'arancia. A parlare José Arcadio Buendía, della saga dei Buendía, nel capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine, gli è successo quello che deve essere successo a molti sulla Terra quando hanno capito che la Terra in realtà è rotonda come un'arancia. Nel libro di Márquez la scienza, la civiltà vengono annunciate da uno zingaro che arriva col suo carretto, Melchiades. In realtà noi questa storia della terra tonda la sapevamo da molto prima, nel vecchio continente si sapeva molto prima, ma effettivamente non si può dar torto a uno che si meravigli di questa cosa. Se ci affacciamo da una finestra che dà su un panorama molto ampio non riusciamo a scorgere ad occhio alcuna indicazione della rotondità della Terra, per cui ci vuole capacità di astrazione, ci vuole capacità di lanciarsi al di là delle apparenze e delle cose troppo vicine. Non tutti l'hanno fatto. Questa immagine di una Terra stazionaria e quadrata risale tutto sommato a poco più di un secolo fa e ancora oggi c'è un certo numero di associazioni di persone che hanno giurato che nonostante tutto la Terra è piatta, tra cui questo signore a cui è stato dato appropriatamente un nome di Mad Mike o qualcosa del genere, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto provare con questo suo trabicolo che ricorda benissimo quelli di Wiley Coyote, quello che ogni tanto costruiva i razzi nei canyon per acchiappare lo struzzo. Beh, lui ha costruito un razzo col quale secondo lui avrebbe dovuto dimostrare il fatto che la Terra è piatta, ha annunciato a tutti che il lancio era prossimo, tutti erano molto curiosi di sapere che cosa sarebbe successo, in realtà il lancio non c'è stato, lui probabilmente si è salvato la vita e noi rimaniamo abbastanza convinti del fatto che la Terra sia tonda, cosa che ci ha insegnato ormai duemila anni fa, niente meno che Pitagora. Pitagora era uno di quelli che guardava oltre e si rese conto che era possibile, adottando dell'ingegno, adottando l'immaginazione, seguire il percorso della Luna che si immergeva e poi veniva fuori dall'ombra della Terra durante un fenomeno che è piuttosto comune, molti di voi avranno visto un fenomeno del genere anche diverse volte, che è quello dell'eclissi di Luna in cui la Luna viene oscurata parzialmente o totalmente dall'ombra della Terra che si frappone tra la Luna e il Sole. Pitagora dedusse brillantemente, guardando il profilo di quest'ombra, che la Terra in realtà doveva essere per forza sferica. E questo risultato è stato poi ripreso da tanti, da Aristotele, addirittura Eratostene, per la prima volta, misurò, stiamo parlando di duemila anni fa, non parliamo del periodo dei Buendia, Eratostene duemila anni fa con un esperimento eccezionale in termini di portata scientifica, misurò per la prima volta le dimensioni della Terra con una tecnica che è molto simile a quella che noi usiamo ancora oggi. Noi abbiamo un grande vantaggio rispetto a Eratostene, abbiamo a disposizione in particolare una metrologia del tempo e delle frequenze che ci permette di fare misure di precisione altissima. Ormai gli orologi atomici sbagliano dell'ordine di una parte su 10 alla 15, 10 alla 16, parliamo di un milione di miliardi, una parte su 10 milioni di miliardi e questo ci permette misure millimetriche su dimensioni molto grandi. La Terra è tonda, la Terra appare tonda. Qua in realtà c'è un po' di distorsione ma fidatevi di me, in prima approssimazione, la Terra appare esattamente sferica vista dallo spazio, appare leggermente schiacciata in poli ma nel caso della Terra la cosa non si vede molto bene perché l'effetto è molto piccolo, l'effetto è piuttosto drammatico invece nel caso di altri pianeti del sistema solare. Vediamo qui l'immagine di Giove, l'effetto qua è insomma esagerato rispetto alla realtà ma questo già indica il fatto che la Terra non sta ferma ma ruota attorno a un proprio asse con una certa velocità angolare. Quindi per studiare quando il titolo della giornata di oggi è il mondo cambia, il mondo cambia continuamente, il mondo, adesso mi fermo al mondo terrestre, il mondo sul quale viviamo, cambia tanto. Il nostro pianeta gira attorno al sole, insieme al sole gira attorno al centro della nostra galassia, gira su se stesso e quello che sta sulla crosta del nostro pianeta, prima abbiamo sentito parlare della tettonica, cambia continuamente e questo signore che si chiamava Alfred Wegener agli inizi del secolo capì che il profilo delle terre emerse dovesse essere cambiato nel corso del tempo. Questa animazione vi fa vedere molto rapidamente quello che è successo nell'ultimo paio di centinaia di milioni di anni. Però già così noi capiamo che il moto relativo dei continenti è dell'ordine di qualche centimetro all'anno, il che vi dà un'idea della grande difficoltà scientifica e tecnologica di misurare in tempo reale effetti di questo genere. Quindi parlo di misure in tempo reale e non di misure in grandi, come appunto nel caso che era avvenuto prima, su grandi misure indirette. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo considerare è proprio la continua deformazione della crosta terrestre che peraltro genera fenomeni che hanno un alto costo sociale, che sono per esempio i terremoti. Dicevamo prima della terra che gira su se stessa, noi abbiamo diverse prove del fatto che la terra giri su se stessa. Vediamo il sole che sorge e tramonta e già qualcuno potrebbe pensare che possa essere l'esatto contrario, cioè che è tutto il contrario, il sole che gira attorno alla terra. In effetti sono vere entrambe le cose se ci si mette d'accordo sui sistemi di riferimento. In realtà è un po' più generale il fatto che la terra giri attorno al proprio asse e noi lo vediamo con esperimenti indiretti. È da poco che si è capito che la terra gira attorno, relativamente da poco, con esperimenti come l'esperimento di Guglielmini che lanciava sassi dalla grotta, dalla torre degli Asinelli a Bologna, oppure il pendolo di Foucault che vedete illustrato a sinistra in questa immagine. La rotazione della terra in particolare poi è una cosa piuttosto complicata perché esistono due assi terrestri, non esiste solo uno a complicare la vita, esiste un asse di rotazione, che è quello attorno al quale la terra gira, ed esiste l'asse di figura e questi due assi si muovono l'uno rispetto all'altro, dando origine a un movimento piccolo, lo vedremo, ma strano e che noi possiamo utilizzare come un indicatore di ciò che avviene sulla superficie terrestre. Questo si chiama moto del polo. Insomma, le cose che abbiamo detto identificano quelli che si chiamano i tre pilastri della geodesia. La cinematica, la geocinematica, il movimento della crosta terrestre, la rotazione terrestre, l'abbiamo appena visto, e il campo di gravità della terra che dipende appunto dalla forma della terra e dalla distribuzione di massa sulla superficie terrestre. Per fare questo, per misurare queste cose, dobbiamo creare dei sistemi di riferimento estremamente precisi e lo facciamo con tecnologie basate sullo spazio. Stando sulla terra non è possibile misurare con precisione questi fenomeni che sono piccoli e sono lenti. Il fatto di restare sulla terra distorce le nostre prospettive, le limita con l'orizzonte in particolare, con l'atmosfera, con il campo gravitazionale, eccetera. Ci si è inventati allora cose come questa. Questo è il Lageos, il satellite per geodinamica Lares. Immaginatevelo sferico, purtroppo appare ellittico. Una sfera, è quello che si chiama, è una nuova classe di satelliti, è un satellite cannonball, a palla di cannone, non ha a bordo nulla, è lanciato nello spazio. Chi in fisica ha studiato la particella di prova, questa è una particella di prova, è una sfera di metallo di 60 cm, pesa quasi mezza tonnellata, è in orbita e resterà in orbita a 6.000 km di quota probabilmente tra i 10 e i 15 milioni di anni. L'abbiamo ricoperto di retroriflettori simili ai catarifrangenti delle automobili e gli spariamo contro degli impulsi laser, scusate, ecco, gli spariamo contro degli impulsi laser molto brevi e molto intensi che ci permettono di misurare la distanza con precisione millimetrica di questo satellite, di questo e di tanti altri satelliti dotati di riflettori come quelli che vedete nella immagine sulla sinistra. Non ci bastano i satelliti artificiali, i satelliti hanno dei pregi e hanno dei difetti, il pregio e il difetto allo stesso momento è quello di essere immersi nel campo di gravità della Terra, che è una brutta bestia da trattare perché è irregolare, varia nel tempo. Allora noi facciamo come facevano gli antichi di nuovo, usiamo le stelle fisse, ma non le stelle che voi vedete a occhio nudo quando uscite di sera, inquinamento luminoso permettendo, si osservano degli oggetti che si chiamano quasar, che sono sorgenti di onde radio particolarmente intense a distanza di miliardi di chilometri, sono talmente lontane che dal punto di vista pratico le possiamo considerare all'infinito. In fisica un oggetto all'infinito indica una direzione inerziale sulla quale noi possiamo creare un sistema di riferimento di eccezionale precisione che ci permette di studiare la rotazione terrestre con precisione veramente eccezionale. Queste sono tutte le quasar, questo è il planisfero celeste che vi fa vedere dove sono poste le quasar nel cielo, ci sono quelle rosse che usiamo adesso, quelle blu che stiamo per usare nel prossimo futuro ed altre. Il guaio di queste due tecniche è che come avete visto hanno bisogno di osservatori particolarmente grossi e costosi e viene in aiuto per la geodesia, per capire la geodinamica, una terza tecnica che usiamo ormai praticamente tutti. Io stesso l'ho usata per arrivare in questa piazza dal mio albergo ed è la tecnologia dei sistemi di navigazione globale, il GPS e gli altri. Questa immagine vi fa vedere le orbite dei satelliti GPS che sono un sistema molto costoso ma la cosa interessante per noi utenti è che la parte costosa del conto l'ha pagata il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per cui a noi basta avere un piccolo ricevitore relativamente economico per fare misure molto precise. È nata così una rete di osservatori mondiali che vedete qui attualmente in funzione, dalla quale potete dedurre molte cose, potete dedurre diciamo la grande, come posso dire, parcellizzazione politica e geografica del mondo, vedete gli addensamenti, in particolare un'Europa, vedete la piccola densità di osservatori nei continenti, nelle parti della Terra meno tecnologizzate e in particolare vi invito a notare alcune di questi siti di osservazione che sono quelli circondati dal pallino, dal cerchietto nero. Queste sono le stazioni fondamentali, ce ne sono oggi sette nel mondo, una delle quali è la stazione, è l'osservatorio di geodesia spaziale di Matera che ho l'onore di dirigere da qualche anno. Insieme tutti questi sistemi funzionano continuamente a ore 24 per misurare quello che succede sulla Terra e i risultati sono questi. Questa è la fotografia attuale della geodinamica. Questi sono i movimenti dei continenti e guardate quella freccetta in basso a sinistra indica la scala che sono due centimetri all'anno. Abbiamo velocità che vanno da zero a 10-12 centimetri all'anno e come potete notare la direzione, l'intensità delle frecce varia a seconda di dove ci si trova. E lì dove ci sono vettori che vanno in zone differenti, vanno in direzioni differenti pur essendo molto vicini, ci sono i problemi. In particolare nella faglia di Sant'Andreas che è la zona negli Stati Uniti sulla quale si sono sviluppate queste tecnologie. Questi sono i primi risultati. Così si muove la Terra e questi risultati stanno migliorando proprio per la densificazione delle reti geodetiche e ci porteranno forse in futuro. Io non sono di quelli che dicono i terremoti non si potranno mai prevedere. Staremo a vedere. La forma della Terra. Abbiamo visto prima la Terra, un oggetto abbiamo detto in prima approssimazione sferico, poi in realtà un po' più schiacciato ai poli. Se uno va a vedere con precisione, viene fuori che la forma della Terra è molto più regolare. Qui l'effetto è molto esagerato perché è una vera e propria caricatura della Terra quella che state vedendo, ma vi fa vedere una figura che si chiama Geoide che, attenzione, non è una rappresentazione pittorica della Terra ma ha un nome terribile, è un'espansione in armoniche sferiche del potenziale gravitazionale e vi dà indicazioni importantissime sulla distribuzione della massa sulla Terra e su come varia questa distribuzione della massa nel corso del tempo, non solo per effetti geofisici ma anche per effetti, per esempio, idrometeorologici che sono di eccezionale importanza per queste cose. Un'altra immagine, quella che vedete adesso, è una misura di grande importanza che facciamo noi in particolare insieme ad altri osservatori, che è la misura della ellitticità della Terra. Ora noi sappiamo che la Terra è un po' schiacciate i poli. Quello che stiamo vedendo è che questa ellitticità sta diminuendo nel tempo. Questo fenomeno si chiama Post Glacial Rebound ed è dovuto al fatto che il ghiaccio nelle zone polari si sta sciogliendo a causa dell'aumento della temperatura e noi da questo grafico, facendo un po' di conti, possiamo dedurre che ogni anno nelle zone polari vengono perse qualcosa come 500 miliardi di tonnellate di acqua. E questo provoca un effetto misurabile sulla distribuzione di massa della Terra, sulla rotazione della Terra e sul livello del mare, che sta aumentando in maniera importante. Ok, a proposito della rotazione terrestre, questo grafico vi fa vedere come la Terra stia rallentando a causa dell'interazione che c'è tra la rotazione terrestre, tra le maree e l'interazione scutata con la Luna, che a causa dell'attrito perdono energia e fanno rallentare la Terra. La Terra, la rotazione terrestre, sta perdendo all'incirca un millesimo di secondo per secolo. E la Luna, nel frattempo, si allontana di circa 4,5 cm all'anno. Queste misure sono possibili solo grazie a queste tecniche che vi ho detto. Dicevamo del moto del polo terrestre. Se qualcuno di voi avesse la pazienza di librarsi a volo d'uccello sul polo nord o sul polo sud, ammettendo che sul polo nord ci fosse la crosta, non c'è, dove dobbiamo chiedere aiuto alla collega che ci ha anticipato di andare sul fondo del mare, a vedere dove viene fuori l'asse di rotazione terrestre, noi vedremo che l'asse di rotazione terrestre percorre un movimento molto strano, che è questo, che si chiama polodia, ed è all'interno di un quadrato di circa 15 metri di lato. Se lo proiettiamo nel tempo, vedete, il tempo sale in quella direzione verso l'alto, e vediamo questo movimento strano, che è un indicatore di eccezionale potenza, di eccezionale importanza di quello che avviene sulla superficie terrestre. Un altro risultato fondamentale è questo. Non sembrerà molto eccitante, ma ciascuno di quei puntini blu che vedete è una determinazione settimanale di dov'è il centro di massa della Terra rispetto alla superficie della Terra. E come potete vedere, questo centro di massa varia, si muove all'interno di un cubo che ha un lato di 3 centimetri. Noi riusciamo ad inseguire questo centro di massa, che è molto importante perché il centro di massa della Terra è l'origine dei sistemi di coordinate, che sono possibili soltanto grazie a questo tipo di tecniche. Io voglio concludere con questa immagine. Abbiamo detto che il mondo cambia, e il mondo sta cambiando, e l'uomo resta. Guardate cosa è successo all'anidride carbonica, alla percentuale di anidride carbonica, nell'atmosfera, negli ultimi 650 mila anni. Questo grafico, attenzione, non è prodotto da, come posso dire, da avvocati die hard del riscaldamento globale. Questa è la NASA, e vi faccio vedere soltanto cosa è successo tra il 1950 ed oggi, con quel picco che non si era mai visto negli ultimi 650 mila anni. Quindi il mondo cambia, l'uomo resta, ma se si resta, è bene che si comporti meglio di quello che sta facendo oggi. Grazie.